buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale di mavi mat come state spero tutto bene oggi faccio questo video in quanto abbiamo fatto una collaborazione davvero pazzesca con un artista di fama internazionale si chiama dakota schuetz in arte cotta lui è molto conosciuto con il suo nome d'arte chiaramente essendo un artista e adesso ragazzi volevo spiegarvi un po come è nata questa collaborazione cosa ha fatto nascere questa collaborazione e alla fine vi farò vedere anche cosa è uscito da questo strepitoso lavoro fatto da cotta sulla nostra famosa poltrona ufo allora ragazzi come è nato tutto quanto cotta ci ha conosciuto tramite i social come sapete mavi mat è molto presente sui vari social network lui scorrendo su instagram ha trovato i nostri prodotti si è innamorato del design si è innamorato della qualità e del fatto appunto che ogni prodotto di mavi mat viene totalmente personalizzato a lui questa cosa l'ha mandato fuori di testa ci ha contattato ci ha scritto subito in direct chiedendoci un incontro per proporci una sua visione che aveva da sviluppare insieme noi chiaramente come tutte le nuove collaborazioni l'abbiamo accettato a braccia aperte cotta è venuto qua nel nostro atelier di venezia come sapete noi abbiamo un atelier qua in provincia di venezia in italia riceviamo solo suo appuntamento i vari clienti interior designer architetti eccetera nel nostro atelier abbiamo diversi nostri pezzi esposti quindi chi viene qua può vederli può toccarli può provarli questo qui che vedete appunto è il famoso divano litos rivestito in velluto ma questa è un'altra storia torniamo da dove siamo partiti ragazzi cotta è venuto qui da noi lui era già in europa in quanto stava facendo altri lavori che ha in mano ha in ballo qui in europa appunto è stato qua due giorni ragazzi e in questi due giorni ha tirato fuori il meglio di sé cioè cosa ha fatto abbiamo preso la scocca di una nostra poltrona ufo l'abbiamo data totalmente alle sue mani e in due giorni ragazzi ha tirato fuori il capolavoro che adesso vedrete passare in qualche clip ha dipinto a mano tutta la scocca la scocca era nera lui è partito ha applicato la sua arte su tutta la scocca dell'ufo e in due giorni è riuscito a finirla ea realizzare questa vera e propria opera d'arte che è diventata questa poltrona ufo considerate che è un unico pezzo al mondo numerata andrà venduta su una galleria d'arte di dubai quindi non vedo l'ora anche di spedirla adesso la imballeremo la manderemo giù a dubai in una galleria d'arte molto molto esclusiva adesso vi faccio passare anche qualche clip voglio farvi vedere tutta la lavorazione che è stata eseguita sulla poltrona quindi fin dall'inizio al risultato finale in modo che giudicate anche voi ragazzi cosa ne pensate di questo lavoro veramente pazzesco perché fidatevi dal vivo è una cosa spettacolare questa poltrona noi siamo rimasti veramente colpiti sia dal fatto di aver conosciuto questo artista che è una persona veramente con un background e una storia incredibile quindi abbiamo legato siamo diventati quasi degli amici non vediamo l'ora di farvela vedere nella sua posizione finale a dubai dove vi ho detto che appunto verrà spedita e adesso ragazzi lascio a voi i commenti qui sotto nel video scrivete quello che pensate di questa poltrona fateci sapere qui nei commenti se vi piace se non vi piace cosa ne pensate come vedete questa tipologia di pittura è una decorazione molto astratta andiamo su una tipologia d'arte moderna ma che piace veramente un sacco al mercato odierno spero ragazzi che questo video vi abbia colpito mi raccomando iscrivetevi al canale in quanto qui porteremo come sapete nuove collaborazioni fatte sui nostri pezzi artigianali porteremo anche video di tutti i nuovi prodotti che andremo a realizzare nella nostra collezione esclusiva di mavi mat voi mi raccomando mettete like al video condividetelo fatemi sapere nei commenti appunto cosa ne pensate di questa poltrona noi ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando seguiteci qua su instagram facebook tiktok al prossimo video ciao ragazzi